Comunque noi l'abbiamo fatto in bici perché eravamo un po' di fretta, dopo dobbiamo andare a fare l'itinerario della memoria e foto. Questo coso è per il giorno, un giornale italiano, credo il più importante, pubblicato da... pubblicato non so da chi. E praticamente questo giornale ha fatto un concorso, noi ci siamo iscritti a questo concorso con la nostra classe e adesso stiamo andando a fare le foto, abbiamo fatto le foto, tipo i sette... cosa che è? Sette meraviglie di Mandela, posto i sette meraviglie di Mandela. Vabbè comunque, bella strada, un po' sali e scendi, un po' sali e scendi però... bella bella, non si fa fatica, pozze freschissime in estate. Com'è? Bella. Senza freni poi è una goduria. Una goduria. Vorrei far notare. Andri vai avanti. Mi si è spaccato l'attacco della GoPro quindi... bella critica. Non l'ho mai portata io. C'è sulla vettorina però non va. Vai! 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 Sì, vai! 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 Andre... Andre... Vai! 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 Alla prossima! Vai, Jess! Guardi che problema con le con... la presa si che c'era la mi hanno fatto i misteri lui troverà tutti voi non potete nascondere i misteri raga purtroppo questo video è un bel video perché comunque sono fiero di come sta andando il canale, di come sta andando l'editing, di tutto però la sfiga ha voluto che non ho portato il secondo attacco per lavoro, quindi quello di riserva e allora niente, non abbiamo potuto filmare almeno sui pezzi quando eravamo in bici non lo so ero un po' ingazzato perché comunque era stato bello vabbè lo faremo un'altra volta e basta adesso vedrete il ritorno perché adesso vi lascerò una clip sempre panoramica come al solito di tutto quindi basta così finito una clip panoramica e poi il ritorno indietro che neanche tanto e poi vi lascerò degli scatti alla fine che abbiamo fatto alle pozze di qua di là perché dovevamo fare le foto per per la scuola ciao raga vai guardo qui sta scendendo e dopo la mano a a qui in a a a a a SLOVEME! 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 exclusivo SLOVEME! 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 Grazie mille Grazie a tutti. 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 Uno stopi, fra, uno stopi. Uno stopi. Sul muretto, fra. Non si impunta. Facciamo da lì, veniamo in giù, a razze, facciamo le scale. Ma vai, dopo la tieni, fidati. Mi scesine tattiche davanti al cilindro. Dopo! Facciamo una da qua. Vai da qua, io non so se faccio le scale. Cazzo, cazzo! Guarda, guarda che pump track. Le ho pompate tutte. Mi sono ammazzata. Mi sono ammazzata, però, con la scala lì. C'è, non è che fosse... C'è, non è che fosse... Sto gran roba, però... Era già qualcosa. Adesso sgommatina. Ho dovuto fare una sgommatina. C'è, non è che sia una sgommatina. C'è, non è che sia una sgommatina. C'è, non è che sia una sgommatina. Stai fermo! Non devi muoverti. No, non devi muoverti. No, non devi fare una sgommatina così. Stai fermo, non devi fare niente. Perché? No, non devi fare niente. No, non devi fare niente. No, non devi fare niente. Non devi fare niente. No, non devi fare niente. No, non devi fare niente. Non devi fare niente. No, non devi fare niente. No, non devi fare niente. niente. Non devi fare 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 niente.